Sul motori, accensione del fronte a via, è verde il semaforo, partono, prende la palla, la numero 6, Cad me 15, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 죽ono, vengono, puoi compar time per leggero. E' sempre davanti Nicodem, anzi al primo passaggio è Vincent Mercier, seguito da Caselline e da Nicodem, poi ancora da Jordan, che è da cui persa. Non sono partiti ORAC, Spagnol e Garcic. Vanno alla metà della seconda, sempre in queste posizioni. Davide Saint-Bercier davanti a Petto Nicodem e a Davide Casarin in terza posizione. Eccoli arrivare sulla linea del traguardo per la chiusura del secondo giro. Versi a Nicodem. Sono questi cinque superpacchi. Bezzammerciam, vi tremerciam. Voi suori ricambi a CN. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. si toccano. a tutti. 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 vediamo. a tutti. 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 . . a tutti. . . . a tutti. . . a tutti. . 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